venerdì 19 luglio oggi si festeggia san giusta e san simmaco il proverbio del giorno è nuvole di luglio fan presto tafferuglio ed ora l'oroscopo della sibilla ariete intrigono aurano la luna in sagittaro riaccende i vostri entusiasmi vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo vi sganciate in un solo colpo di condizionamenti familiari e rivendicate libertà di pensiero e di azione toro nessun ostacolo di cui darsi pena anche se una pigrizia diffusa consiglia di trascorrere se possibile la giornata beatamente in panciolle è tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli prendendo in totale libertà una decisione gemelli sotto il tiro della luna quadrata nettuno interrogativi e sospetti affollano la vostra mente delusioni e nervosismo per un viaggio sfumato addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione ma attenti e non tirare troppo la corda cancro è naturale che fra tante cose da fare qualcosa sfugga la vostra attenzione e non riesca come vorreste non siate troppo severi con voi stessi può capitare di perdere qualche colpo nessuno è perfetto e tantomeno infallibile non fatene un dramma leone rompere le catene che vi legano la routine trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile grazie al trigono luna urano un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira non lasciatevela sfuggire vergine con la luna in sagittario quadrata nettuno soprattutto per le partenze gli spostamenti non si prospetta una giornata molto scorrevole fate riferimento alla logica e alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento di confusione bilancia non c'è passaggio più adatto per le partenze di quello della luna in sagittario viaggi brevi o vacanze vere e proprie si prospettano entusiasmanti se ci saranno prove da sostenere avrete il giusto spirito brillante leggero per affrontarle scorpione saturno e nettuno vi ispirano profondamente vi forniscono gli strumenti per la ricerca l'approfondimento e la realizzazione impegnatevi in progetti ambiziosi procedendo con disciplina ricaverete autostima ed arricchimento personale sagittario sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare partenze e vacanze a causa di impegni improvvisi a fronte di una delusione cambierete totalmente i vostri piani e non ve ne pentirete affatto capricorno ottima giornata per stilare una sorta di bilancio con una panoramica che abbracci un po tutti i settori volta a chiarire certe perplessità desiderio di quiete umore piuttosto schivo un libro quattro passi nel parco a tu per tu con voi stessi acquario intrigono aurano la luna in sagittario una fonte inesauribile di sorprese novità notizie incontri movimentano piacevolmente la giornata amici forse conosciuti in viaggio si rifaranno vivi dopo tempo con un invito che vi riempie di gioia pesce la luna vi getta esche allettanti ma con il sostegno di saturno oggi saggiamente diffidate e non abboccate promesse troppo belle per essere vere una solida struttura mentale senza nulla togliere alla fantasia scongiura il rischio di inseguire progetti fumosi